5 cose da sapere sulla finanza comportamentale. 1. È una corrente di pensiero che attribuisce alla psicologia e alle emozioni umane un ruolo chiave nelle decisioni economiche e finanziarie. Grazie ai suoi studi, lo psicologo Daniel Kahneman ha vinto il premio Nobel per l'economia. 2. Messi davanti a una scelta, il nostro cervello ha due strade per trovare la soluzione migliore. Svolgere un'analisi razionale approfondita ma più faticosa, oppure utilizzare un approccio intuitivo e rapido, basato sulla somiglianza della decisione del momento rispetto alle decisioni simili prese in passato. In poche parole utilizzare un bias. 3. Si ha un bias di conferma quando tendiamo a considerare solo le idee e le informazioni affini alla nostra, scartando tutto il resto. Per esempio un investitore che utilizza solo obbligazioni e titoli di stato perché considerate sicure o senza considerare che anche gli stati possono fallire. 4. Siamo in presenza dell'un bias quando tendiamo a preferire ciò che sentiamo vicino, come strumenti nazionali o strumenti familiari perché magari già utilizzati da conoscenti. Questo porta a una scarsa diversificazione in portafoglio e una sovraesposizione a determinati settori o aree geografiche. 5. Avversione alle perdite. Gli esseri umani patiscono a perdere il denaro, il doppio rispetto al godere di un guadagno. Questo negli investimenti si traduce nel comportamento che ci porta a liquidare le posizioni in profitto e a mantenere le posizioni in perdita. Questo atteggiamento può letteralmente distruggere il nostro capitale.